Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro che stiate bene, perdonatemi, non sono nel mio solito posto. Devo appoggiarmi un attimo qua perché se non si capisce, quindi dobbiamo parlare della situazione veramente molto importante per quanto riguarda un giocatore che potrebbe tornare in bianco-nero. Allora, partiamo da un presupposto molto semplice. I ritorni alla Juve sono sempre stati pieni di brio. Quanta gente è tornata negli ultimi anni? Un sacco di gente, ogni tanto ne spunta uno e torna un sacco di gente. E potrebbe tornare un ragazzo che di recente è andato in prestito e che sta facendo vedere veramente un sacco di cose, di prestazioni decenti, di grandissime secondo me giocate, e potrebbe tornare in bianco-nero. E noi andiamo a spiegare. Andiamo a cercare di capire un pochino per quale motivo questo ragazzo, innanzitutto, non è alla Juve, ma poi per quale motivo potrebbe tornare. Perché ci sono un sacco di cose da dire, veramente, e ho intenzione di mettermi a spiegarle perché è una cosa un po' lunga da dire, però cerchiamo di renderla leggera, nel senso, senza andare troppo, insomma, ad appesantire un po' l'argomento, anche considerando il fatto che bisogna parlarne poco perché comunque stiamo ancora dalutando le situazioni. Ovviamente, ragazzi, cerchiamo di parlare, però, cosa dovete fare prima di tutto? Inizia, ragazzi, qua sotto, basta andare, come al solito, iscriversi, ovviamente, like e campanellina. Mi raccomando, la campanellina è sempre importante. Cioè, ragazzi, sta cosa veramente importantissima, perché tanta gente diceva, però la campanellina vi serve per ricevere tutte le notifiche e se vi va potete ovviamente anche seguirmi sui social. Allora, c'è stato un momento della scorsa stagione in cui lui è sembrato, sembrava poter, sembrava essere, non dico quasi titolare, perché non è mai stato titolare, però è stato, ha giocato, no? Qualcosina ha giocato. E poi a un certo punto quest'anno gli hanno detto, guarda, tu devi andare in prestito perché qui non puoi restare, perché qua giochi poco e non va bene. Sto parlando, ovviamente, ragazzi, di un giocatore che, personalmente parlando, apprezzo particolarmente, però al tempo stesso io sono stato molto, molto deciso nel dire che doveva andare in prestito. Perché io penso che i prestiti servano a questo. Cioè, tu fai bandi in prestito il ragazzo per avere da parte della squadra che trovi un aiuto nella crescita, no? Nell'andare a giocare, nell'essere protagonista a tutti i livelli da questo punto di vista. E sto parlando, ovviamente, di Sule, del nostro caro amico, qualcuno lo chiama, lo pronuncio in maniera diversa, insomma, di Mattias, di Mati, come direbbe qualcuno, di Mattias Sule, di Mattias, ragazzi, di Sule. Allora, Sule è un giocatore che è arrivato qua dal Veles, non so se ve lo ricordate, parecchio tempo fa. parecchio tempo fa, è stato aggregato alla primavera, poi si creò il progetto Under-23, lui entrò nell'Under-23 perché era troppo forte per la primavera, e quindi cominciamo, insomma, a vedere un po' Sule. In Under-23 Sule non è stato particolarmente, diciamo che non ha rappresentato, non ha fatto vedere i suoi doti. Il giocatore, secondo me, aveva grandissimi problemi da un punto di vista tecnico, li ha risolti, e comunque è stato inserito in prima squadra, ok, della Juve. Ha fatto un anno in prima squadra in cui ha giocato un po' così, a fine stagione gli hanno detto, guarda, tu secondo noi devi andare in pressione. E' andato appunto nella Ciociaria, insomma, nel Frosinone, che è proprio, tra l'altro, vicino alla mia città natale, insomma, vicino no, però, insomma, sicuramente nella stessa regione, comunque ci arrivi con la macchina, ecco. Quindi è un giocatore che, tra l'altro, ha delle qualità importanti. Ora, sono molto, molto sincero quando vi dico che quando l'ho visto di recente, visto qualche sua gara, devo dire che mi ha fatto vedere ottime cose. Il giocatore gioca come esterno-destro largo, il che mi lascia veramente molto perplesso, perché io su lei non lo vedo come un'ala. Molta gente mi ha scritto e mi ha detto, Matt, ma su lei è un'ala, perché noi non lo possiamo, non lo potevamo tenere, perché non poteva fare l'esterno? In realtà, per quanto lui possa essere finito, non è un'ala, perché non basta dire gioca sulla fascia per rendere il giocatore. Allora, l'ala pura, chi è? L'ala pura è chi prende la palla, punta l'uomo, salta l'uomo, riesce comunque ad andare in profondità. Questo fa l'ala pura. L'ala pura, lui cosa fa? Lui prende palle e va verso il centro, cioè come se andasse ad ampliarsi. Quindi, se si va ad ampliare, da questo punto di vista non sei un'ala pura, per me è più una seconda punta. Per me su lei, in un modulo a due, gioca attaccante, non gioca dietro, gioca seconda punta. Capite qual è il discorso? Io stesso lo schiererei seconda punta, perché per me il ruolo più semplice che su lei può svolgere è quello di seconda punta. Perché non ha le qualità nette per fare l'ala. E infatti io, attualmente nella squadra in cui è, io lo vedo che parte da destra, ma anche se parte da destra, lui fa una serie di movimenti che non hanno niente a che vedere con il ruolo. Ma hanno a che vedere con il ruolo di seconda punta, tra i giocatori dietro le punte. Quindi è un giocatore che aiuta un po' l'attacco, no? Buon giocatore, buon talento, ottima qualità. Devo dire che mi sta facendo vedere un sacco di cose di livello. Ora, tanta gente mi ha detto l'altra volta, quando parlavamo di Suley, mi ha detto Tu sicuro che lo vuoi mandare in prestito? Nel senso, tu avevi detto che lo vuoi mandare in prestito, perché non lo tieni? Perché tieni X e il Suley non lo tieni? Perché ci sono dei giocatori che meritano un prestito e altri che non ne hanno, non c'è bisogno di mandarlo in prestito. Suley è un giocatore che secondo me ha bisogno di prestito. Perché il Suley deve giocare per crescere. Qui non avrebbe giocato mai. Qui non avrebbe giocato mai. Suley qui non giocava mai. Quindi il fatto che lui sia andato in prestito è una cosa intelligente. Non bisogna andare a danneggiare, a credere, a dire abbiamo sbagliato. Perché non abbiamo sbagliato. Non abbiamo sbagliato. Non abbiamo sbagliato niente con Suley. Suley è un buon giocatore che aveva bisogno di un prestito. Che aveva bisogno di una squadra che credesse in lui. Di una squadra che rappresentasse per lui un aiuto netto. Questo è questo di cui aveva bisogno Suley. A me dispiace dirlo. Perché poi dici perché lui resta e lui no. Però ci sono dei giocatori che sono adatti alla prima squadra e altri giocatori che non sono adatti. Suley per me attualmente non c'è stava la testa. Quindi il fatto che lui vada fuori e faccia un'esperienza nuova che poi te lo riporti. Ma già ora è diverso, raga. Siamo parlando di un giocatore che ha un... Qualcuno dice che Suley non è bravo. Anche se secondo me bisognerebbe modificare un pochino il modo di fare di Suley. Perché Suley è un giocatore che io dico tu fai l'attaccante. Ok? Anche se non sei un attaccante. Però fai l'attaccante, no? Ora l'attaccante tesoro. O cresci, migliori. Oppure l'attaccante non si può fare con due gol all'anno. Cioè, Suley ha una media gol. Suley segna pochissimo. Per il ruolo che fa, Suley segna pochissimo. Suley deve fare almeno 10-15 gol a stagione per il ruolo che fa. Per essere il ruolo che fa, per fare quel ruolo là. 10-15 gol a stagione ti portano poi ad avere un atteggiamento diverso. Cioè, secondo me non ha senso fare l'attaccante senza segnare. Molta gente gli dice no, no. Perché ci sono stati attaccanti che, ok. Però Suley è un giocatore di buona qualità, no? Sicuramente di buona qualità. Il fatto che non segni... Il fatto che non segni... Insomma, il fatto che non segni è un po' disturbato. Un po' che ti fa un pochino... Che ti dà problemi, ecco. Ti dà particolari problemi. Ti dà dei problemi. Secondo me anche dal punto di vista tecnico. Perché... Sinceramente parlando, che gli fai fare? Cioè, ti ripeto. L'ala pura, secondo me, non la può fare. Pura, eh. Poi la puoi mettere a destra e non la può fare. Centrocampista? Centrocampista? Mi vuoi far fare proprio il... Cioè, non lo puoi posizionare. Non lo puoi posizionare. Ti ripeto, un'altra volta, te lo voglio ribadire. Perché no, non lo puoi posizionare a centrocampi. Non lo puoi dare là. Perché lui non ha il fisico per fare quella cosa l'altra. Oltre ad un'altra serie di cose che bisognerebbe spiegare, bisognerebbe dire, ma non spiego perché sennò il video viene lungo 30 minuti e ho paura di che non vi piaccia poi. Cioè, è evidente che questo ragazzo abbia problemi nel fare gol. Da lì può diventare un ottimo giocatore. Cioè, se lui riesce a trovare un gol più speso, allora là diventa un signor giocatore. Ma se tu, Sule, te pensi che puoi andare avanti con due gol, tre gol all'anno, che fai? Non va bene. Capito qual è il discorso? Poi, detto questo, io credo che nessuno possa dire che Sule sia scarso. Cioè, chiunque dica che Sule sia scarso è folle, voglio dire. Nessuno può dire oggi Sule è scarso. Io non credo che ci sia qualcuno così pazzo da dire che Sule sia scarso, però oggettivamente parlando ha bisogno di qualcuno che lo faccia giocare. E secondo me qui potrebbe diventare un buon giocatore. Poi, se lui torna, eh, va bene. Nel senso, ci sono già parecchie voci. Però, a mio modesto avviso, deve imparare... Io credo che lui debba imparare a fare cose. Deba imparare ad essere attaccante. Perché il discorso, sapete qual è, raga? Oggettivamente parlando con tutto la cosa... Ti vedo, non sto dicendo nulla e non dico nulla di che. Se ti dico che non è abbastanza ancora per la Juve. Poi, col tempo, nessuno dice niente, eh. Il ruolo, poi, uno non è che deve andare tanto a mettere beccoso, perché poi non è tanto la... E non è quello che conta, ma è il modo in cui fa. Quindi bisogna rendersi conto anche di questo. Bisogna guardare a tante cose quando si va ad un giocatore giovane. Ok? Bisogna veramente guardare a tante cose. Non puoi fermarti a quello che vedi. Ma devi cercare di ragionare anche dopo. Cercare di vedere il problema. Quindi lui, secondo me, ha talento. Però ha delle cose in cui deve andare a sistemare. Deve cercare di crescere. Se riesce a crescere lì, se riesce a rappresentare per noi una forma buona di gioco, potrebbe anche in futuro tornare. Che ne sai? Potrebbe tornare... Secondo me torna. A quanto ne so, potrebbe tornare. Tutto qua. Quindi, fatemi sapere un pochino nei commenti quali sono le vostre idee. Cioè, fatemi sapere un pochino la vostra... Il vostro modo di vedere le cose. Il vostro... Il vostro... Voglio sapere cosa pensate. Capito? Qual è il discorso? Voglio sapere un pochino la vostra opinione. Secondo voi, lui potrebbe tornare? Oppure no? Cioè, secondo voi... Alt! Facciamo un discorso chiaro. Potrebbe tornare in bianconero su Le... Cioè, è un giocatore che vi piace? È un giocatore che vi lascia? È un giocatore che vi...